Ora siamo davvero stanchi, ora non ne possiamo più. Io sono in attesa, sono in attesa dell'esonero di questo mezzo allenatore. Ora siamo stanchi, perché il campionato per il Milan è finito oggi, è finito. Se avevamo una piccola speranza, un cazzo di lume acceso, era continuare a fare risultati, a picchiare duro. Ora dopo questo pareggio, del cazzo, del cazzo, è finita una qualsiasi speranza. Cardinale, la tua letterina che hai fatto ieri te la puoi infilare su per il culo, perché stiamo facendo peggio dell'anno scorso che non abbiamo fatto una campagna acquisti da 120 milioni. A oggi avete fatto delle scelte di merda, delle scelte di merda. E la scelta di merda numero uno è stata ottenere quel cazzo di mediocre di merda. Siamo stanchi. È da un po' che te lo stiamo dicendo, è da gennaio che te lo sto dicendo, che ci avete rotto il cazzo. Non ne posso più, raga. Non ne posso più. Già che ci siete, vi invito a lasciare un pollice in suo e benzinero, a iscrivervi al canale, se anche voi siete delusi, perché poi questo è un mix di rabbia e di delusione per tutto, per tutto. Per dei calciatori che avevano già la testa, già la testa al Natale, a festeggiare il Natale con le fighe. Ma avete rotto i coglioni, state giocando di merda, state giocando. Sembrate dei sacchi di immondizia, sembrate. Perché poi io mi incazzo con Stefano Pioli, che è quello che deve far girare sta cazzo di squadra. Ma in campo scendete voi mentecati, perché siete 20-25 mentecati, che non riuscite manco a vincere contro una cazzo di salermitana. A cui faccio i complimenti, faccio i complimenti anche a Pimpo Inzaghi, che ieri mi sono dimenticato. Io non so più che dire, io non so più che dire. Sono solo incazzato con tutti, incazzato con Cardinale, con Furlani e Moncada, con questo mediocre di allenatore. Sono incazzato, perché non si può arrivare a dicembre e aver già finito il campionato, perché lottare per il quarto e terzo posto per me non è campionato. È il minimo sindacale, lo volete capire? È il minimo sindacale, lo volete capire? Che poi facciamo una o due vittorie e qualcuno esalta questa merda umana di allenatore. Per fortuna non è finita la stagione, perché abbiamo ancora l'Europa League e la Coppa Italia. Ma non la voglio affrontare con questo qua, con questo imbecille. Non la voglio affrontare con questo qui. Perché sennò non andiamo da nessuna parte. Questo è imbarazzante. Non c'ha la fase difensiva, tu non la conosci la fase difensiva. Ammonte gli infortuni, raga. Lasciamo perdere gli infortuni. Che ne succede uno ogni giorno? Uno ogni giorno perché c'è uno staff di incompetenti. Osti, sei un incompetente. Non è neanche ancora dato le dimissioni. Tu sei un senza vergogna. Sei un mangiasoldi del Mila. Tu sei un mangiasoldi del Mila. Perché se tu avevi un cazzo di minimo di dignità, gli dicevi a Pioli, guarda, se tu vuoi andare avanti, io ti abbandono. Perché non sono in grado di gestire una squadra di calcio. Posso solo gestire la palestrina di un paese di mille abitanti. Perché già se vai a Bergamo in città non la puoi gestire. Perché non sei capace. Lasciamo perdere quello. Lasciamo perdere quello. Ma non sappiamo fare la fase difensiva. Non sappiamo manco che cazzo sia. Anche perché, a parte tutto, gli infortuni. Oggi abbiamo giocato con praticamente la squadra titolare, raga. E non riusciamo a battere la Salernitana manco con la squadra titolare. Poi certo, se Monchier ci abbandona, Tomori si scassa. Ma anche con Simi c'è Florenzi. Tu devi vincere sta partita. Poi secondo me, raga, se casca un giocatore a terra, si è persa anche un minimo di sportività. Cioè, se cade un giocatore a terra, butto la palla fuori. Però hanno fatto bene. Io dico solo che si è persa la sportività. Però hanno fatto così e doveva essere l'arbitro a fermare al massimo il gioco. E hanno fatto bene. Non mi attacco all'episodio, come ha fatto Pioli ieri, un giocatore a terra. Non mi attacco. Perché poi si sviluppa tutta un'azione. Ha tirato da duemila metri. Magic Mike ha fatto una minchiata stratosferica. E prendiamo gol senza quella minchiata. Magari oggi staremmo parlando di una vittoria. Però aveva fatto anche due miracoli prima. Io non gli metto la croce. Amen. Si porta a casa il suo cinque. Però non gli metto la croce addosso. Non lo croce figgo. Magic Mike. Abbiamo un giocatore in campo che sarebbe da prendere a calci in culo. Ma prima torniamo sul discorso di prima perché poi mi perdo via. Non abbiamo una fase difensiva. Non sappiamo manco che cazzo sia la fase difensiva. Perché ogni volta che scendono i nostri avversari mi davano l'impressione che potevano fare sempre gol. Ci doveva mettere la mano Magic Mike. Noi prendiamo sempre il contropiede perché continuiamo ad attaccare troppo alti. Continuiamo ad attaccare troppo alti. Continuiamo ad attaccare. Ma non la capiamo perché noi abbiamo Pep Guardiola di sto gran cazzo di sta minchia. Ci abbiamo. Il Pep Guardiola. Pep Guardiola che non l'hanno ancora imparato come si fa nelle palle inattive. Palle inattive dove noi sistematicamente o prendiamo gol o ci caghiamo addosso perché rischiamo di prenderlo. Sono stagioni. Non è solo questa. Sono stagioni. E' per quello che poi uno si incazza. E' per quello. E' per quello che uno poi bestemmia come un pazzo anche prima di Natale. Perché passano gli anni e facciamo sempre le solite stronzate. Sempre. Sempre. E nulla. Fase difensiva. Zero. La fase offensiva. C'è perché abbiamo fatto due gol. Creiamo anche. Creiamo anche. Ma non torna mai nessuno. Il centrocampo non torna. Cioè siamo una squadra strasbilanciata. Poi quando prendiamo i contropiedi restano su tutti. Non difendiamo la squadra. Perché non abbiamo quel corridore in mezzo al campo che era che sì. Non ce l'avevamo l'anno scorso. Non ce l'abbiamo neanche quest'anno. Non l'abbiamo trovato. Non può essere in Musa. Perché è troppo giovane. Lo sarà un giorno. Ma oggi non può esserlo. Questo è un progetto sbagliato raga. Perché sono tutti troppo giovani. Non c'è un leader. Manca. Un cazzo di leader dentro. Mancano i leader. Non vinci con i bambini in mezzo al campo. È vero che c'è Girou e Kier. Ma non c'hanno la personalità che aveva Ibra in mezzo al campo. Quando abbiamo vinto sto straminchia di scudetto. E per fortuna che abbiamo vinto quello scudetto lì se noi eravamo qua a mangiarci il fegato. A mangiarci il fegato raga. Se non viene esonerato Stefano Pioli vuol dire che abbiamo raggiunto lo scandalo dello scandalo vivente. Ma non va sostituito con Abatti, con un allenatore della primavera. Va sostituito con un allenatore con i controcoglioni. Perché c'è gente tipo Leao che va preso a schiaffi in faccia. Perché tu quando non corri tu hai preso l'aumento Leao. Tu hai preso l'aumento. Sei l'unico che può ribaltare questa squadra. Ma quando fai le partite che hai fatto ieri. Tu dopo dieci minuti andavi già sostituito. Non dovevi fare tutta la partita. Perché ieri sei stato scandaloso. Scandaloso. Ma io ti attacco per la partita di ieri. Perché lo so che sei l'unico che può fare qualcosa. Non ti attacco per partito. Ho preso colpa di quello là. Che non ti stimola. Perché uno che ti stimola. Dopo cinquanta minuti ti sostituiva. E ti faceva fare una figura di merda davanti a tutti. Ti prendeva a schiaffi. Davanti a tutti. Come aveva fatto Deleu Rossi. A schiaffi. Andate presi. Una squadra che era in vacanza. Si vedeva. Era in vacanza. Una squadra che si deve vergognare. Vi dovete vergognare. Vergognare. Eh però abbiamo creato. Abbiamo provato anche a vincere. È stata anche una reazione della grande squadra. Ma vai a fare in culo Bioli. Vai a fare in culo. Io quando sento i tuoi post partita. Io spaccherei con questo cazzo di martello. Il televisore lo spaccherei. Perché sei inascoltabile sei. Sei inascoltabile. Gerry. 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 Fai qualcosa. Perché le colpe passano automaticamente da lui a voi. Che siete stati immobili. Immobili. Quando ancora eravamo in corsa della Champions. Tu dovevi esonerarlo. Dopo il primo derby. Che mi hanno preso cinque peri. Dovevi esonerarlo in questa cazzo di sosta. Che avevamo due settimane. Non l'hai fatto. E mi hai fatto uscire dalla Champions. Perché è anche colpa tua Gerry. Tu e il tuo cazzo di staff. Comunque ne parliamo oggi. Perché ti sto aspettando al Varco Gerry. L'attaccante del Milan. Deve essere Lukas Jovic. Non perché ce l'ho con Giroud. Che lui dà l'anima. L'anima per il Milan. Due su dalla maglia Giroud. Ma non sa più l'età. Per essere l'attaccante titolare del Milan. Jovic entra in venti minuti. La picchia dentro. E Jovic. La punta del Milan. Da adesso in poi. Adesso poi va via anche Benazel. Voglio vedere con chi cazzo giochiamo. Poi adesso ti cadono i cojoni per terra. Non c'è più le motivazioni. Tutti adesso cercheranno di fatti il culo. Voglio vedere adesso. Con come andiamo avanti. Con quali stimoli. Siamo una squadra di merda. Perché va detto. Voi giocatori dovreste guardarvi in faccia. E dire che siamo una squadra di merda. Che non meritiamo questa tifosia. Voi. Noi tifosi. Non ci meditate. Non ci meritate. Perché non ci avete la dignità. Non dovreste indossare quella maglia lì. Anzi dovreste indossare solo quella. Quella dell'Unione lì. Come cazzo si chiama. Quella vario pinta arcobaleno. Dovreste usare quella. E basta. Ma quella rosso e nera. Non dovreste utilizzarla. Perché non siete degni. Di utilizzare la maglia del Milan. Sempre Forza Milan raga. Iscrivetevi al canale.